I premi, questi benedetti premi, allora io uso il viuster o pezzettini di formaggio, poi naturalmente dipende se un cane ha qualche allergia, qualcosa, quindi potete cucinare del petto di pollo, fare siccare il cuore, il polmone, ne so, qualsiasi cosa voi pensate, ma che sia veloce da mandare giù e che se eventualmente gli va di traverso lo possa espellere facilmente, come ad esempio il viuster. La crocchetta deve masticare, ma gli può andare di traverso e dà molta sepe. Come lavoriamo con questi premi? Molti mi dicono, ah ma sono troppi, ok sono troppi, ma se all'inizio lavoriamo sul fatto che premiamo tutto ciò che il cane ci piace, che fa bene, quindi noi lo premiamo tutto quello che ci piace, quello che non ci piace non premiamo. All'inizio dobbiamo non avere problemi, quindi premiare, pagare bene e rinforzare bene con questi bei premi un cane per fargli capire ciò che ci piace e quello che non ci piace, quindi non viene premiato. All'inizio lavoriamo con lo stimolo, come ad esempio prendiamo il bocconcino, lo mettiamolo sopra la testa, sopra il suo naso per farlo sedere, questo è un lavoro in stimolo, nel senso lo stiamo stimolando. Finché non lo ha preso bene noi continuiamo a fare questo, dopodiché che avrà ben fatto questo seduto sempre, ogni volta che faccio questo gesto cominciamo a metterci la parola. Quindi seduto, mentre mettiamo il bocconcino dietro la testa, lui si siede seduto, seduto, poi alla fine diciamo seduto si siede bocconcino, seduto si siede bocconcino. Poi cosa arriviamo? Lavoriamo un rinforzo positivo, come tutti dicono, come lavoriamo un rinforzo positivo, cioè i cani gli chiediamo seduto, ok, ti siedi, ti do il premio. Quindi teniamo i premi dentro, le tasche, chiediamo seduto, premio. Quindi andiamo a lavorare premiando quello che chiediamo. Poi lo premiamo random, nel senso che i premi non sono mai sicuro, cioè ti do il bocconcino, su, tu, ogni volta, ti fai un seduto, bocconcino. Seduto, niente, solo un bravo, seduto, niente, bravo, e poi al terzo gli do un bocconcino, oppure premio, uno, due, tre volte lo premio, e poi magari non lo premio due, tre volte, in maniera tale che il cane non sappia mai quando gli arrivano i premi. E comunque lui, per insegnare le cose, quindi stimoliamo col premio tutti gli atteggiamenti che ci piacciono, fino a che avrà acquisito delle competenze, dopodiché, una volta acquisita, gliele possiamo chiedere, quando le esibisce, noi lo premiamo. Ecco, diciamo questo, quindi non vi preoccupate, lo premiamo, ma dopo devo girare sempre coi premi. Da premettere che io ho sempre uno zainetto con dentro palline, premi e tutto, perché non ci si finisce mai di allenarsi, non si finisce mai di premiare, magari il cane viene in un bel posto e lo premio, non è che ogni secondo, qualsiasi cosa gli dico, lo premio, però non c'è problema. Quindi non vi preoccupate di togliergli il premio, e poi state tranquilli che non è più importante un bocconcino più di voi, provate a mettere un bocconcino lì e andate via, il vostro cane preferisce stare con voi, si diverte a stare con voi, non gli interessa dei premi. Quindi, cioè, non è che non gli interessa dei premi, no? Molti, ah, ma dopo viene con me solo perché c'è il cibo, fa con me solo sul cibo, vabbè, se quel cane farà solo per il cibo, è perché stiamo ancora lavorando in uno stimolo, quindi ogni volta è abituato che se non fa una cosa, non c'è il premio, lui non fa niente, quindi dobbiamo, dopo un po' di volte che il cane ha fatto bene l'esercizio, con la parola è tutto, cominciamo via il premio, a lavorare sul fatto che ti chiedo una cosa, tu me la dai, non è che siamo lì 22 anni a seduto col premio, a seduto col premio, perché il cane ormai acquisisce un automatismo che è quello. Ok, quindi premiamo random, prima stimolo, poi in rinforzo, premi random e anche magari cambiate i premi, non sempre magari un po' di viusto, un po' di formaggio, qualcosa di sempre di particolare, un po' per esaltare i suoi successi e cose, quindi magari oltre ai premi, naturalmente il cibo, anche i giochi, quindi secondo il vostro cane è quello che gli piace, ma adesso comunque parlavamo dei premietti, diciamo in cibo, perché a molti, oh ma il mio cane ingrassa, il mio cane non vi preoccupate, magari se avete lavorato molto e gli avete dato 3-4 pacchettini di viustere, quelli piccolini, gli toglierete qualche 50 grammi di crocchette, poi alla sera quando dovrà andare a mangiare. Ciao!